Benvenuti in Inghilterra, un paese in cui storia e innovazione convivono, dove la natura incantevole si accompagna a una cultura ricchissima. In questo viaggio, scopriremo le 10 mete da non perdere di questa nazione affascinante. Prima di iniziare, vogliamo precisare che questa non è una classifica. Sappiamo che ogni viaggiatore ha gusti e interessi diversi, e questa selezione è basata su alcuni specifici criteri. Inoltre, visto che il 96% delle visualizzazioni del canale proviene da persone non iscritte, fateci un favore, e iscrivetevi al canale. Il nostro viaggio inizia nel cuore del Regno Unito, nella affascinante città di Londra, una metropoli frenetica, dove il mondo moderno si fonde con secoli di storia. Il suo skyline è caratterizzato da luoghi storici come la Torre di Londra, Buckingham Palace, e il maestoso palazzo di Westminster, simboli della ricca storia e della magnificenza architettonica della città. Londra non è solo una città, è un mondo a sé stante. I suoi quartieri variegati, dalle vivaci strade di Soho, al fascino bohemian di Camden, offrono esperienze uniche e immersioni culturali. Musei come il British Museum e il Tate Modern, mostrano tesori provenienti da tutto il mondo. Passeggiate lungo le rive del fiume Tamigi, esplorate i vivaci mercati di Portobello Road, e gustate cucine provenienti da tutto il mondo nei vari ristoranti di Londra. Questa città frenetica non dorme mai. Ma tra la frenesia urbana, Londra offre momenti di tranquillità nei suoi bellissimi parchi. Hyde Park, Regent's Park e Kew Gardens, invitano sia i residenti che i visitatori a rilassarsi, e godersi l'oasi verde nel cuore della città. Londra è un melting pot culturale in cui è possibile esplorare l'arte, la musica e il teatro in ogni angolo. Notting Hill Carnival, le esibizioni musicali del West End, e gli artisti di strada di Shoreditch, sono solo alcuni esempi della ricchezza culturale della città. Londra, con la sua fusione di modernità, storia e vitalità culturale, è una città che lascerà un segno indelebile nella memoria. Lasciamo le affollate strade di Londra e raggiungiamo la regione conosciuta come Cotswolds. Nel cuore dell'Inghilterra, le Cotswolds sono un mosaico di villaggi idilliaci, colline ondulate, e architettura affascinante. È un luogo in cui il tempo sembra fermarsi, e la bellezza della campagna ti accoglie ad ogni angolo. Le Cotswolds sono rinomate per i loro incantevoli villaggi, ognuno con la sua unica personalità. Mentre ti avventuri per le strade lastricate di Biburi, o attraversi i pittoreschi ponti di pietra a Boat Nonno Water, sarai trasportato in un mondo dal tipico fascino inglese. Le casette color miele, adornate da fiori variopinti, sembrano uscite da una fiaba. Le colline ondulate offrono incantevoli passeggiate e viste mozzafiato, mentre i ruscelli e i canti degli uccelli creano un'atmosfera rilassante e tranquilla. Le città storiche della regione, come Siren Sester e Stonewall, sono centri che offrono mercati di prodotti locali e affascinanti tea shop. Gli amanti delle escursioni possono esplorare il Cotswold Way, un lungo sentiero escursionistico, o godersi attività come l'equitazione e il ciclismo. Il nostro viaggio ci porta a Stonehenge, un sito che ha affascinato e catturato l'attenzione delle persone per millenni. Situato nella pianura di Salisbury, questa meraviglia preistorica è circondata da mito e leggenda. Stonehenge è un sito dell'UNESCO, composto da un anello di massicci monoliti, ognuno dei quali pesa diverse tonnellate. L'origine e lo scopo di queste pietre continuano a essere oggetto di speculazione, accrescendo il suo mistero. Alcuni credono che sia un osservatorio celeste, mentre altri lo vedono come un luogo sacro di sepoltura. La bellezza naturale che circonda Stonehenge è altrettanto impressionante quanto il monumento stesso. L'ampia pianura di Salisbury offre ai visitatori una vista eccezionale della campagna inglese, richiamando l'antico mondo dei suoi costruttori. Visitatori provenienti da tutto il mondo vengono a contemplare l'energia unica e l'aura di Stonehenge. Il suo fascino magico è particolarmente potente durante i solstizi. Il modo in cui le pietre catturano la luce, il suono del vento sulla pianura, e il sussurro della storia nell'aria, rendono Stonehenge un'esperienza indimenticabile. Situata nel nord-est dell'Inghilterra, la storica città di Durham è un tesoro nascosto che merita di essere esplorato. È una città in cui storia e architettura si fondono perfettamente per creare un'atmosfera incantevole. Il suo cuore è la magnifica cattedrale di Durham, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, con la sua splendida architettura romanica, che sembra toccare il cielo. Accanto alla cattedrale, il castello di Durham aggiunge ulteriore fascino storico alla città. Passeggiando per le strade acciottolate di Durham, ti imbatterai in una città che sembra un museo vivente. I suoi vivaci mercati e le strade affollate offrono uno spaccato della vita quotidiana di questa città unica. Il ponte Elbet e il ponte Femmo Gate, che collegano la città, mostrano una deliziosa architettura medievale. La caratteristica più distintiva di Durham è la sua posizione, arroccata su una penisola circondata dalle simose acque del fiume Ware. Questa splendida cornice, offre panorami da cartolina, soprattutto quando la cattedrale è illuminata di notte. Il nostro viaggio attraverso l'Inghilterra prosegue con una visita alle due illustri città universitarie, Oxford e Cambridge. Questi antichi centri di istruzione, hanno plasmato l'intelletto e la cultura della nazione per secoli, e sono ammirati per la loro unica miscela di storia, cultura, e magnificenza architettonica. Oxford vanta uno skyline impressionante, ornato dalle guglie dei suoi storici college. E visitate la Barcliffe Camua, un capolavoro neoclassico, e la famosissima biblioteca bodleiana. A breve distanza si trova la città di Cambridge, con il tranquillo fiume Cam, che si snoda nel cuore della città. La navigazione lungo il fiume è un'esperienza unica, che offre una prospettiva esclusiva dell'architettura incantevole di Cambridge, tra cui l'iconica cappella del King's College, e il Ponte dei Sospiri. Entrambe le città sono sede di prestigiose università, dove generazioni di studiosi hanno perseguito la conoscenza. Oxford e Cambridge hanno nutrito alcune delle menti più grandi della storia, e la vivace vita accademica è palpabile. La nostra prossima destinazione è la città di Liverpool. Situata lungo le rive del fiume Mercy, Liverpool ha conquistato un posto speciale nei cuori degli amanti della musica. Liverpool, infatti, è nota come città natale della leggendaria band dei Beatles. La città rende omaggio ai suoi famosi figli, con attrazioni come il Museo The Beatles Story, e il Cavern Club. Oltre alla musica, lo storico lungomare di Liverpool è un sito patrimonio dell'umanità dell'Unesco, e riflette una fascinante eredità marittima. L'iconico Royal River Building, l'Albert Dock, e il Merseyside Maritime Museum, fanno tutti parte di questo splendido a fresco sul lungomare. La nostra prossima tappa è Bath, una città incantevole dove storia, architettura e natura si fondono in perfetta armonia. Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, Bath è famosa per la sua elegante architettura georgiana e per le sue terme di origine romana. Esplorate le antiche terme romane, dove sgorgano ancora le acque termali. Nelle vicinanze, la magnifica abbazia di Bath, con la sua splendida architettura gotica, si erge verso il cielo. Percorrendo le strade lastricate di Bath, sarete trasportati indietro nel tempo. Gli edifici georgiani, soprattutto il Royal Crescent e il Circus, sono esempi eccezionali della bellezza architettonica della città. Il nostro viaggio prosegue sulla costa giurassica, o Jurassic Coast, una meraviglia geologica sulla costa meridionale. Questo sito, Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, vanta un panorama di scogliere frastagliate, spettacolari formazioni rocciose e antichi fossili, risalenti a milioni di anni fa. La Jurassic Coast si estende per 95 miglia. Dar del Dorre è uno dei suoi luoghi più famosi, un arco naturale di calcare che emerge dalle acque del canale della Manica. Nelle vicinanze, la Baia di Lulworth, a forma di ferro di cavallo, offre un rifugio riparato, ideale per nuotare e rilassarsi. Non sono solo i paesaggi incantevoli a rendere unica la Jurassic Coast. La costa è un tesoro di fossili, tra cui rettili preistorici e ammoniti. Puoi cercare i fossili con gli appassionati cacciatori di fossili, o goderti l'emozione di scoprire questi antichi resti nelle rocce e sugli scogli. Qui, la bellezza della natura e la storia si intrecciano, invitandoti a esplorare un mondo che il tempo ha modellato per milioni di anni. York è una città in cui si respira storia, dove l'architettura medievale e le strade lastricate suscitano un senso di fascino senza tempo. Nel cuore di York si erge la magnifica cattedrale di York, o York Minster, una imponente cattedrale gotica che risale a secoli fa. Questo capolavoro architettonico non è solo una testimonianza del patrimonio spirituale della città, ma anche un notevole esempio di maestria artigianale. Passeggiate lungo The Shambles, una strada storica dove gli edifici a graticcio ti fanno fare un salto indietro nel tempo. Le mura di York, le più lunghe mura medievali d'Inghilterra, offrono viste incantevoli della città e dei suoi dintorni. York non è solo un testimone del passato, è una città vibrante e vivace, con una fiorente scena culturale. Entrate nel mondo dei vichinghi presso il York Vic Viking Center. Camminate lungo il fiume Aus, e godetevi le viste suggestive lungo le rive o fate una gita in barca. I giardini di York, come Museum Gardens e Roundtree Park, offrono spazi verdi per il relax. I pub e i ristoranti della città servono una deliziosa varietà di piatti tradizionali dello Yorkshire, il che rende York una delizia anche dal punto di vista culinario. Il nostro viaggio si conclude con il Lake District, un paradiso naturale situato nel nord-ovest dell'Inghilterra. Questo parco nazionale è un vero e proprio gioiello, famoso per i suoi paesaggi incantevoli, laghi e montagne spettacolari. La bellezza naturale del Lake District è semplicemente impareggiabile, e offre ai visitatori un rifugio dalla frenesia della vita moderna. La regione ospita alcuni dei laghi più belli dell'Inghilterra, tra cui Windermere, Oldswater e Derwentwater, dove è possibile praticare varie attività, come le gite in barca, il kayak o semplicemente crogiolarsi in un ambiente tranquillo. Durante l'esplorazione, si può anche incontrare la fauna locale, dai cervi rossi a rare specie di uccelli, che rendono il parco ancora più affascinante. Per gli spiriti avventurosi, il Lake District offre una vasta rete di sentieri escursionistici, che portano a cime imponenti, come Scoff o Pike, la più alta dell'Inghilterra. I panorami che si godono da queste vette sono assolutamente incantevoli, e offrono una vista impressionante dei paesaggi incontaminati. In questo scenario naturale, scoprirete anche pittoreschi villaggi con incantevoli cottage, e locande storiche che accolgono i viaggiatori. Non dimenticate di visitare un accogliente pub inglese, dove potrete gustare un pasto abbondante e socializzare con gli amichevoli abitanti del luogo. Quando il sole tramonta sui laghi, e gli ultimi raggi di luce sfiorano le cime delle montagne, il Lake District rivela il suo lato più magico. È un luogo che invita a rilassarsi, a entrare in contatto con la natura e ad abbracciare la pura bellezza della campagna inglese. Il nostro viaggio giunge al termine. Abbiamo esplorato il cuore di questa affascinante nazione. Ora tocca a voi intraprendere la vostra avventura e scoprire l'incantevole bellezza dell'Inghilterra. Preparate le valigie, pianificate il vostro viaggio, e lasciate che la magia dell'Inghilterra si sveli davanti ai vostri occhi. Supportate il canale mettendo un like a questo video, iscrivendovi per ricevere altre idee di viaggio, e cliccando sulla campanella per non perdere nessuna delle nostre prossime avventure. Alla prossima!